Book a Book è il crowdfunding italiano del libro. Autori di libri inediti, che siano autori noti o esordienti non fa differenza, possono proporre il loro libro alla community. Se la community, se il pubblico decide di credere in quel libro, di sostenerlo economicamente, di farlo girare su social network, se si arriva alla cifra prefissata a inizio campagna, il libro viene pubblicato. È un modo democratico, aperto e dal basso di pubblicare libri. Un modo completamente nuovo di pensare all'editoria. Ciao a tutti, io sono Rossella Lombardozzi di Bicraudi, la piattaforma di crowdfunding dedicata al sostegno di progetti in campo artistico e culturale. Siamo online dal 3 aprile 2014. Attualmente abbiamo finanziato già quattro progetti in ambito musicale e di eventi. Ci rivolgiamo sia ad artisti singoli o in forma collettiva e a organizzazioni che operino nel campo culturale e abbiano voglia di sostenere la cultura in un modo alternativo. Allora, io sono Alessandro Ionni, sono il founder di PizzaNow. PizzaNow è un servizio che permette agli utenti di ordinare la pizza attraverso il proprio smartphone con un'applicazione e alle pizzerie di gestire tutti i propri ordini, le proprie statistiche di ordine attraverso una web app che è accessibile sia da tablet che da computer che da smartphone. Un esempio di una pizzeria che fa per esempio a Napoli siamo attivi e abbiamo la pizzeria Excalibur da cui voi tranquillamente potete ordinare. Prendete il vostro cellulare, accendete l'applicazione, decidete l'indirizzo dove farvi arrivare, selezionate tra le pizzerie che appariranno che saranno le uniche possibili per voi la pizzeria dove volete ordinare. Dal menu scegliete le pizze, le potete anche modificare o crearle e poi inviate l'ordine. Da quel momento avete una schermata dove la pizzeria vi comunicherà i vari stati del vostro ordine in modo totalmente automatico oltretutto. Quindi voi vedrete quando l'ordine sarà visionato, quando è stato accettato con il tempo, se ci sono ritardi, se ci sono anticipi e poi quando l'ordine partirà dalla pizzeria. Da quel momento dovete solo aspettare effettivamente. Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare Pelti. Pelti è una cassa bluetooth che funziona attraverso il principio di Peltier che trasforma l'energia termica in energia elettrica. Si può collegare con qualsiasi device di origine bluetooth ed è perfetto da utilizzare in situazioni che vanno dall'aria aperta al proprio soggiorno e al design. Coincide diverse funzioni di design, è completamente realizzato in Italia. I ragazzi che stanno cercando i finanziamenti sono ragazzi italiani e viene progettato e assemblato nel nord dell'Italia. Vi chiediamo di partecipare al nostro progetto attraverso un piccolo contributo cercandoci su Indiegogo. OpenMove è una piattaforma aperta che consente il pagamento dei servizi di mobilità. I cittadini quindi possono pagare il parcheggio, gli autobus e tutte quante le esigenze di mobilità all'interno di un'unica app. Perché è innovativa? Beh perché è completamente aperta a tutte quante le esigenze di mobilità, è gratuita sia per l'utente sia per l'ente gestore e andiamo a coinvolgere le attività commerciali che quindi hanno la possibilità di promuovere i prodotti del territorio e di regalare quindi credito agli utenti. Come funziona concretamente? Il cittadino per pagare la sosta dell'automobile, per pagare il biglietto dell'autobus, preme semplicemente un tasto all'interno dell'applicazione. Compare una pubblicità geolocalizzata che gli dà modo di usufruire di sconti. Quando quindi vai in pizzeria con lo sconto del 30% ricarica il credito interno, quindi per parcheggiare e per viaggiare completamente gratis. Ciao, busso web!